Allora regà, tocca organizzare sto Capodanno, manca veramente troppo poco. Che... che volemu fa'? Eeeh, andamo al centro di Roma. Capirai che ci andamo a fa' al centro di Roma? Non ci sta nel concerto e nemmeno potemo buttare i botti che Virginia non vuole. Eeeh, ma sì, aveva detto che lasciava casa sua per Capodanno, come anno scorso. Eeeh, no no regà, sta... sta volta mi è in chiappetto proprio. Cioè, l'ultima volta mi avete fatto esplodere il cesso, mi avete mandato a fuoco la cucina, e vi siete pure magnati tutto quello che aveva comprato mi madre. Io non ho mangiato niente. Madonna santa, mi sta partì a sciabarabba tomica. E io so Gego, e niente regà, manteniamo la calma, possiamo fare tante cose. Ma che manteniamo la calma, oh? So due mesi che dice, non vi preoccupate regà, la fama a casa mia, Capodanno è organizzato, e poi ci pisce all'ultimo, e che cazzo? E allora facciamo una cosa, e rubiamo appartamento e facciamo Capodanno lì. E senza che facciamo spesa, ognuno porta qualcosa. Allora, io porto Mifio e il pallone d'oro per Salon faccia a Messi. Io portare acqua. Io porto le bombe. Ancora? T'ho detto che Virginia non vuole. Ma no quelle che si tirano, quelle che si fumano. E io porto Abacchio che è rimasto a Natale. Ah regà, ci deve essere qualcuno che porta pure un po' di cioccolata, eh? Cioè potrebbe portarla a Loh. Ah sì. No, è meglio che Loh non porta niente, va. Eh Zlatan porta rame. Zlatan, hai rotto i coglioni con sto rame, ma che ce fiamo co rame? E il rame? Se mangia rame? Eh, tu non offendere il rame. Perché se tu offendi il rame, Ibra ammazza tutto il tuo albero genealogico. Ah regà, avvertite Montolivo che l'anno scorso stava così in ritardo che ha portato l'ova di Pasqua. E soprattutto diteglie che stiamo a festeggiare il 2017, che l'anno scorso si è presentato qua a Maglia, buon 2010. Eh sì regà, però qualcuno porti pure l'arcol. Fammo che portiamo una bottiglia di arcol a testa, se no che cavo danno è. Per forza regà, a capo danno voglio beve così tanto che se casco esplodo e faccio il gavettono a tutti quanti. Comunque mi sembra tutto pronto, se vediamo a capo danno regà. Io sapevo che sarebbe finita così. Camarezzo. Belli regà, sono il vostro Cristiano Ronaldo. Se il video vi è piaciuto, seguite la pagina, mettete il like, condividete e aiutatemi a farla cresce. Belli chicchi, buone feste e buon anno.